Sapevate che se fate i 911 anche da qui vi vengano a salvare? Cioè non è che vengano dall'America, vi vengano a salvare quelli che vengano a salvare la gente che lavora qui, capito? E questa cosa, su chi non la sapevo, succede perché il 911, come numero proprio, è diventato talmente radicato nella cultura proprio, nel modo di pensare popolare, che il telefono di conto suo ragiona e dice se questo che sta a Bagnarripoli ha fatto i 911 è un po' picchiato di capo perché pensa di stare a Chicago o Illinois, però magari ha bisogno d'aiuto. E quindi in automatico trasferisce la chiamata al nostro numero per le emergenze che è i 112, capito? Succede questo. E tra l'altro questo è anche un esempio abbastanza interessante di obsolescenza programmata perché questa cosa il telefono la fa se è un telefono recente, se è un telefono delle ultime generazioni, altrimenti no. Per cui se c'hai il telefono nuovo tu ti sarvi, se c'hai il telefono vecchio e devi morire, capito? Funziona in questo. E ora noi da qui bisogna arrivare a Kevin Durant. Io non so... ma non me lo fa mia fa nessuno, eh. Cioè è proprio una roba che a me mi viene l'idea e bisogna che faccia... Un po' devo fare un bel video tranquillo sulla situazione sentimentale di Udoha. E invece no. Il 911. Kevin Durant. 911. Qual è l'emergenza? Questo è il claim, no? Questa è la formula ormai tradizionale che tutti noi anche si conosce perché è dappertutto. È nei film, è nelle serie tv americane. È dappertutto che senti dire questa cosa qui riguarda... E quindi se uno dovesse avere, putacaso, un particolare disagio psicologico come il sottoscritto, si potrebbe chiedere... ma perché proprio 911? Cioè come cifre, no? Cioè perché dare proprio il numero 911 all'emergenza? Cioè com'è nata questo... Io me lo so chiesto e la spiegazione è abbastanza articolata, per cui cerco di riassumervela. Innanzitutto serviva un numero corto, un numero lesto, perché se te hai bisogno che sei in un momento di... Bisogna che non è che ti puoi mettere lì a pensare. Dunque il numero delle emergenze è poi dove fai prefisso... No, ci deve essere uno. Metti che sei in una cosa dove hai bisogno di un intervento. Ora vedi Anthony Davis che sta per entrare in campo, no? Per cui capisci che si sta per rompere, di conseguenza, e quindi hai bisogno di un intervento immediato. E per cui il numero deve essere particolarmente corto. Per cui poteva venire in mente, facciamolo di una cifra, no? Un numero, vici, ta e chiami. Non si poteva fare, perché per le impostazioni delle linee telefoniche dell'epoca servivano almeno tre cifre per far partire proprio la chiamata. E c'è un altro problema, che siamo attorno agli anni 60 più o meno, e negli Stati Uniti la maggior parte della gente ha questo telefono qui. che io mi rendo conto che magari i più giovani di voi non hanno mai visto, però esisteva, io l'ho vissuto nei primi anni della mia vita a casa dei miei nonni, e funzionava che te dovevi mettere il ditone dentro il buco corrispondente alla singola cifra che dovevi fare. i tre, mettevi il ditone in il buco di tre, e poi giravi la rosella fino a che non andavi proprio a picchiare con il ditone nella sbarretta di ferro. A quel punto toglievi il ditone e la rosella tornava in automatico. e lì avevi fatto una singola cifra. Poi seconda cifra, terza cifra, per fare un numero ci mettevi praticamente mezza giornata. Comunque sia ci mettevi meno di ora, se proprio proprio bisogna, perché te ora che siamo nei 2020, con l'anni, la tecnologia, le rose, vuoi fare, chiami Siri per fare il numero di telefono, bisogna vedere tanto se ti sente. Poi se ti sente, ti risponde, gli dici chi vuoi chiamare, non capisce mai una massa di niente di quello che vuoi fare, quindi devi prendere il telefono, cominciare a sbloccarlo. Magari in quel momento avevi la mascherina per cui il Face ID non ti rionosce, allora ti levi la mascherina, ripigli il telefono, sblocchi. A quel punto però ti accorgi che hai esaurito il numero di tentativi di Face ID, quindi devi inserire cifra per cifra, lettera per lettera, tutti i codici per sbloccare. Poi apri l'applicazione, entri in i codici, fai il numero e chiami, eh? Nel 2022, coi cose. Per cui, no, già all'epoca comunque la cosa era abbastanza più corta. 9-1-1 fu scelto, tre cifre. Perché però proprio 9-1-1? Cioè, se pensate a come era fatto il telefono, la cifra più lesta da fare era l'1, perché lo spazio che intercorreva tra l'1 e la barretta di ferro era il più corto di tutti. Per cui, volendo fare un numero più rapido possibile, dovevi fare, tre cifre ti servivano, 1-1-1, no? Era la cosa più... Perché non hanno fatto 1-1-1? Perché c'era l'AT&T, che sarebbe praticamente la corrispondente della team americana, la team senza lomino vestito da controllore che balla, va bene? L'AT&T, l'1-1-1 l'aveva già utilizzato per le proprie linee interne all'interno della cosa. Per cui la cosa più lesta sarebbe stata fare i 2-1-1, ma anche i 2-1-1 l'avevano bene utilizzato. 3-1-1 lo stesso l'avevano bene. Il primo libro era 9-1-1 di per l'appunto. E quindi scelsero i 9-1-1 come numero unico per tutte le emergenze. A questo punto, in base allo stadio di avanzamento e quindi alla gravità della malattia, uno potrebbe anche chiedersi, e io me lo so chiesto, ma perché tirare fuori un numero unico per le emergenze? Perché oggi ci viene naturale il numero unico delle emergenze. Ma per inventarlo, no? Cioè, com'è che gli venne l'idea? Non è che per caso ci fu un episodio scatenante, una roba dai... Ci fu. Lei è Catherine Susan Genovese, detta Kitty Genovese, come capite bene, di chiare origini italiane. Perché noi, quando c'è da inventare qualche cosa, in un modo o nell'altro, bisogna sempre mettici lo zampino. Ragazza statunitense, nata e vissuta, attenzione, in quel di Brooklyn. Brooklyn, ha capito? Ehi, di stiamo arrivando, ci stiamo avvicinando. Poteva essere nata e vissuta da tutte le parti di Bondo, e invece proprio a Bruni. Ma lasciamo perdere, perché poi Catherine Genovese si trasferisce all'età di 29 anni per andare a convivere. E dopo essersi trasferita, una sera, di rientro da una festa, in ora particolarmente tarda, verso le tre di notte, viene aggredita per strada da un uomo con un cortello. Ed è subito Elisa True Crime. È notte fonda, la strada è deserta, però Kitty si dispera, viene aggredita, vede l'aggressore che si avvicina, urla, sbraita. Nessuno fa niente. Probabilmente la sente, vedremo poi, la gente la sente, che si dispera nì in mezzo della strada, perché non è un'area desolata, nì in mezzo dei condomini, nì in mezzo delle case. Però nessuno interviene, nonostante le urla di Kitty, fino a che uno, alla fine, decide di aprire la serranda della finestra. E questo basta per mettere in fuga l'aggressore, che nel frattempo aveva dato due coltellate alla povera Kitty, che rimane lì per terra, che si dispera, che urla, che chiede aiuto. Però nessuno si muove, nessuno fa niente. Tant'è che dopo mezz'ora, che era ancora lì rantolante, l'aggressore ritorna, ritorna con il solito cortello, e finisce la povera Kitty Genovese. Nel silenzio generale, dalle indagini successive, si arriverà a stabilire che 37-38 persone, circa, almeno, l'avevano sentita nel silenzio della notte, dalle case circostanti. Però nessuno aveva fatto niente. 37-38 persone, per bene, no delinquenti, che potevano intervenire, bastava niente per mettere in fuga definitivamente l'aggressore, o per chiamare aiuti, per provare a salvare Kitty Genovese. E invece, niente. Perché? Perché nessuno ha fatto niente? Interrogati nei giorni seguenti dalla polizia, queste 38 persone hanno praticamente tutte risposto due cose, con due scuse, chiamiamo proprio le cose come stanno, va bene? Due scuse. Numero uno, non mi ricordavo il numero dei soccorsi, e quindi non ho fatto niente perché non sapevo all'atto pratico proprio chi chiamare. Scusa numero due, perché pensavo che qualcun altro fosse già intervenuto, o magari che qualcun altro stesse per intervenire, che comunque sarebbe intervenuto, perché proprio io dovevo fare... e quindi non hanno fatto niente. Per la scusa numero uno, è stato inventato, dopo l'aggressione di Kitty Genovese, il 911 di Perl'Appunto, e per la scusa numero due, invece, la psicologia sociale, che è una branca della psicologia, ci ha studiato anni e anni a venire. L'hanno chiamato bystander effect, o, in italiano, effetto testimone, effetto spettatore, o anche sindrome genovese, proprio in riferimento a quello che è capitato alla povera Kitty. Praticamente è stato studiato, è stato accertato, numeri alla mano, che quando succede qualche cosa, quando c'è un episodio che evidentemente necessita di intervento, perché è un qualche cosa di pericoloso, c'è un'emergenza, maggiore è il numero delle persone che guardano, che si rendono conto dell'emergenza, e minore è la probabilità che qualche d'uno faccia qualche cosa. Hanno fatto dei centinaia di test nel corso degli anni, con diverse persone, e ci sono due attori, a un certo punto uno dei due aggredisce l'altro, e hanno visto che se c'è un solo testimone, un solo passante, una sola persona che vede quello che sta succedendo, è molto probabile che questo intervenga, che faccia qualche cosa, e provi a allontanare l'aggressore, o anche soltanto che chiami la polizia, che si dia da fare, perché è l'unico a vedere. Se invece ci sono tante persone, due, tre, quattro, dieci, cento persone, che guardano l'accaduto, è molto probabile che nessuno faccia niente. Perché poi, intervistati, quello che ti dicono è «Ma io, boh, pensavo che intervenisse qualche d'un altro, pensavo che magari ci fosse uno più grosso di me, che fa i taquando, che poteva entrare anni in mezzo e allontanare l'aggressore, io non sapevo che fa, pensavo che avessero già chiamato la polizia, pensavo che i soccorsi fossero già in arrivo, non volevo entrare». Trovano delle scuse e nessuno interviene. Perché essere all'interno di un gruppo, in questo caso, alleggerisce la pressione del senso di responsabilità e porta di fatto all'inazione più totale. Al di fuori della metafora è esattamente quello che è successo in quest'estate in NBA. 25 di giugno è stato Damiano Lillard a accendere la miccia. È stato lui primo con quel post, con quella storia su Instagram, a farci capire che effettivamente c'era una concreta possibilità che Kevin Durant fosse sul mercato. E di nuovo, poteva essere chiunque, qualsiasi giocatore all'interno, e invece proprio Damiano Lillard, che a sua volta, nelle stati precedenti, era stato protagonista di una stessa, più o meno, telenovela. Perché le ultime due stati, praticamente, si sono passate a dire Lillard via da Portland, Lillard ai Lakers, Lillard in una contende. No, e poi alla fine è sempre rimasto, invece, ai Trailblazers. Quindi è stato lui, in un certo senso, a passare il testimone della telenovela dell'estate. Testimone come l'effetto testimone, perché tutto torna in queste situazioni. E da lì in poi, poi, la cosa è partita, e si sono sbizzarriti. Filadelfia su Kevin Durant, Boston su Kevin Durant, i Golden State Warriors, i Phoenix Suns, chiunque su Kevin Durant. Solo i Knicks non ci hanno messo, perché a quel punto, poi, non sarebbe stata credibile, no, la cosa. Quindi, almeno quello. Fino a che, alla fine, ormai, di agosto, neanche troppissimi giorni fa, il tutto si è concluso con nulla di fatto. Qualcuno dice, era Durant che voleva andare via, non erano i Nets che hanno mai voluto darlo via. Qualche d'un altro dice, l'affare Rudy Gobert a Minnesota ha bloccato, di fatto, la trade di Kevin Durant, perché, se gli Usagers erano riusciti a raccattare così tanto cedendo un giocatore come Rudy Gobert, a quel punto, gioco forza, il valore di Durant si era arzato talmente tanto che nessuno avrebbe potuto fare un'offerta credibile per i Brooklyn Nets, e quindi, di fatto, è stato quello che ha bloccato la trade di Durant. Altri ancora, i più complottisti in assoluto, dicono, in realtà, Durant non è mai voluto andare via, e manco i Nets hanno mai voluto darlo via. Hanno organizzato tutto per fare in modo di creare zizzania, come è capitato, per esempio, a Boston, quando è girata la voce che i Celtics avrebbero dato a Jalen Brown per poter arrivare a Kevin Durant, e quindi, magari, ora, bocce ferme, e Jalen Brown potrebbe averla avuta un po' a noia, poi ora a Boston c'hanno altri problemi, ma, insomma, per capirsi, no? È stato tutto un piano diabolico, architettato. Io vi dico la mia, sinceramente, passate un po' di settimane, fatto un po' il punto della situazione, calmate le acque, tutte queste opzioni hanno una qualche valenza di plausibilità, secondo me. Però è molto possibile che in realtà si sia stati tutti testimoni di un enorme gigantesco, 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 bystander effect, cioè un effetto spettatore che ha coinvolto, di fatto, tutta la Lega, portandola all'inazione più totale, immobilizzando il mercato, perché se ci fosse stata una sola franchigia sui giocatori, sulla trade, se fossero state due sole franchigie, secondo me, alla fine, era probabile che qualche d'uno avrebbe ceduto, avrebbe fatto qui piccolo sforzo in più a livello economico, a livello di giocatori, a livello di scelte, al draft, per fare l'offerta decisiva, no? Definitiva. Se fossero stati uno o due sulla trade, ma siccome c'era tutta la Lega, gli spettatori erano praticamente tutti, tutte e trenta le franchigie, o giù di lì, è probabile che la maggior parte dei front office a un certo punto abbia pensato vabbè, ma sicuramente ci sarà qualche d'uno che alla fine offre più di noi, è inutile che noi ci si metta qui a fare i tirammolla, magari l'hanno bello trovato l'accordo con qualche franchigia e stanno tirando in avanti il discorso, ma in realtà è inutile che noi ci si metta a mettere in ballo i nostri giocatori, e quindi alla fine tutti ragionando così nessuno ha fatto niente e all'interno della metafora nessuno è riuscito a salvare dall'aggredito il poro Kevin Durante. Vittima come vittima è sempre stato dall'inizio praticamente della sua carriera della sua stessa grandezza, talmente forte da rischiare concretamente di diventare il più forte di sempre di tutta la storia dell'NBA a non aver mai vinto con un progetto tutto suo se dovesse andare male a Brooklyn.